Ciao ragazzi e benvenuti su Castiubedrums! Come potete vedere oggi sono in compagnia di due pacchi veramente, veramente grandi e soprattutto pesanti. Sapete già che cosa c'è dentro ma a me piace sempre un po' creare quella suspense che in realtà non serve perché avete già letto il titolo. Ma comunque qui dentro c'è una batteria molto molto particolare che sembra una batteria acustica ma non lo è. Vi sto parlando della F-NOT 5, c'è anche la 3 poi dopo vi spiego bene tutte le differenze ma io sono gasatissimo di andare a aprire questi pacchi e andare a provare questa batteria perché appena l'ho vista ho detto voglio provare questa batteria acusti... elettron... elettronica ma acustica. Adesso vi spiego bene tutto per prima cosa con queste forbici bellissime Vediamo che cosa c'è all'interno del pacco. No, non ce la farò mai a fare questa cosa A prima vista questa batteria qua potrebbe sembrare una batteria acustica a tutti gli effetti perché qui dentro ad esempio abbiamo tutte le aste che non vi faccio vedere una a una tanto sono aste normalissime come le aste solite che vediamo sulla batteria acustica ma appunto a parte l'aste del charleston che non c'è il pedale che sono da prendere a parte semplicemente tutte le altre aste le avete già all'interno qui dentro credo proprio ci sia la nostra cassa da 16 pollici che poi apro e vi faccio vedere ma andiamo a vedere a sto punto In questo pacco qui che sicuramente ci saranno i tome così almeno riesco a prenderli in mano perché l'altra è un po' di f***a che cosa abbiamo a parte ah beh qua avremo dei piatti no qui niente primo tomino primo tomino i fusti sono dei allora dei veri fusti mamma mia il colore è fighissimo sembra un po' il colore della tamburo che avevo portato qui sul canale guardate che bello raga guardate che figata questo fusto qua ovviamente è una batteria elettronica ma sembra una batteria acustica il fusto è perfettamente quello di una batteria acustica ci sono cassa da 16 tom da 10 timpano da 12 e rullante da 12 anche lui ovviamente adesso vado pure a montarvi tutto non sto a farvi l'unboxing di ogni singolo pezzo se non stiamo qua sei ore e mezza vi faccio vedere anche questione piatti dove sono ad esempio i piatti ah sono sotto la cassa i piatti uh questo questo che bello è vero mi ero dimenticato questa chicca qua di questa batteria perché oltre i piatti cioè crash charleston e ride c'è anche uno splescino da 8 pollici raga è bellissimo e poi tra l'altro questi piatti qua ah già solo a sentirli sono fighissimi secondo me questi hanno una sensibilità pazzesca già col cavo attaccato quindi super super comodo raga facciamo così sono gasatissimo voglio andare a provare questa batteria ma veramente voi non avete idea quindi prima cosa da fare smontare questa batteria qua anzi ecco così direi che è molto meglio quindi dato che alla fine si monta con una batteria normale non vi faccio vedere cose mentre la monto perché è veramente identica a una batteria normale quindi andiamo subito a suonarla raga sono gasato sono gasato vado a montarla e arrivo quindi batteria montata devo dire che è stato veramente super 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 semplice montare questa batteria perché è uguale a una batteria acustica come vi dicevo quindi le aste sono quelle di una batteria acustica i piatti alla vine quelli sono piatti i tamburi come il timpano come potete vedere oltre a avere il cavo perché è una batteria elettronica ma anche tutti i piedini quindi è stato veramente veramente un attimo montare questa batteria partiamo dal suono ve la faccio sentire e poi vi spiego tutto perché ci sono almeno 130.000 cose positive di questa batteria che io voglio dire quindi mi metto le cuffiotte così sento la batteria perché altrimenti non la sento e metto un suono a caso e vado a presto Quindi, come avete potuto sentire il suono di questa batteria, attacco qui, si vede in camera? No, non si vede. E' veramente super 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 perché appunto, ma non le metto le cuffie perché se non sento niente quando vi faccio sentire le cose, è super sensibile per prima cosa perché... Sia che si vada sui piatti, tra l'altro si ferma anche il piatto, non so se l'avete visto... Ecco. Super sensibile, quindi questa è una figata e tra l'altro la cosa bella di questa batteria è che il Charleston funziona veramente da paura. Le batterie elettroniche molto spesso hanno proprio il problema del Charleston, cioè che il Charleston funziona, non funziona, la sensibilità non è al massimo, quindi... Invece qua... E' veramente ottimo, però son partito troppo a bomba, fermiamoci un attimo e vi spiego che cos'è questa batteria, che cos'ha. Per prima cosa, la batteria è composta da cassa da 16 pollici, rullante da 12, tom da 10, timpano da 12, questo ve lo avevo già detto, i piatti sono dei piatti abbastanza grandi per una batteria elettronica e questa è una figata, un'altra figata, perché Charleston da 14, quindi un Charleston normale come grandezza, crash da 16 pollici, ride da 18, sì, 18 pollici, e in più, splash da 8 pollici, quindi splashino piccolo non dà fastidio, però è sempre figo avere uno splash, che poi a parte che sembri una batteria elettronica, quindi se io ho uno splash, voglio dare un suono di crash, lo posso fare tranquillamente, ma a parte queste cose qua, lasciamolo come splash. Oltre tutto questo, una figata pazzesca, veramente una figata, è questa centralina, che è completamente diversa dal solito, perché è una centralina con un pulsante solo, solamente questo pulsante luminoso qua, qui abbiamo la striscia che ci fa vedere quando suoniamo, a che volume siamo in pratica, e oltre questo è tutto completamente touch, a parte questo pulsante che è un pulsante dove possiamo cliccare, ma possiamo anche ruotare, quindi è una manopola, e qua possiamo veramente andare a fare tutto quello che ci serve, quindi noi abbiamo, ad esempio, qua siamo su funk cue, che è un suono ovviamente funk, ma poi possiamo andare avanti, quindi se andiamo avanti abbiamo speed start. Ultimo che vediamo, snare off, ah questo è figo perché è rullante senza cordiera. Ci sono una marea di questi presseggiafatti e ovviamente poi ognuno può andare a prendersi o un presseggiafatto e modificarselo con tutti quanti gli elementi, tutti quanti i suoni che ci sono all'interno, che sono tantissimi, oppure andare proprio a crearsene uno da zero, quindi batteria completamente muta e ci si sceglie il suono che si vuole per ogni strumento. Altra figata mondiale che non ho mai visto in nessun'altra batteria, è questo, cioè questo rim che addirittura ha un jack a parte che serve proprio solo per il cross stick, quindi noi andiamo a metterci nella posizione normale del cross stick e poi... è molto figo e ovviamente il rim anche qua ha mille suoni, quindi se volete lo potete cambiare, potete mettergli anche un altro suono volendo, se volete un cowbell potete mettere il suono di un cowbell o di un tamburello, fare quello che volete. Andando sulla centralina a vedere tutte le cose possibili, se noi clicchiamo su menu abbiamo kit edit che ci permette appunto di modificare tutti quanti i vari suoni eccetera, levels che invece è un mixer dove andiamo proprio a decidere il volume di ogni singolo strumento, andando indietro poi possiamo avere la libreria, set list, le cose molto fighe sono che vabbè noi possiamo andare a decidere tutta la questione del click, come lo vogliamo, che nota vogliamo, se vogliamo in quattro quarti, in tre quarti eccetera, poi incominciano veramente le figate, nel senso ci sono stroke scope che praticamente ci fa vedere la griglia come potete vedere sulla centralina e se noi facciamo partire il click, one, two, three, vedete che mi fa vedere perfettamente quello che sto suonando e mi dice se lo suono in griglia oppure no, anche se faccio dei sedicesimi. è una figata perché lui ti fa vedere in questo caso ride, charleston, rullante e kick, cioè cassa, se sono precisi o no, ti dice proprio dove li stai suonando in base al metronomo, poi puoi anche andarle a cambiare volendo, se non vuoi ride ma vuoi magari crash 2 perché hai da studiare uno stacco dove devi andare a suonare sul secondo crash e deve essere precisissimo, lo puoi vedere perfettamente nella griglia, se la cosa io ce l'avessi avuta 5-6 anni fa sarei impazzito. Ma comunque detto questo ci sono altre cose fighissime tipo accuracy mod in cui è una cosa simile a quella di prima, facciamo partire il metronomo e in base a quanto siamo precisi su ride, charleston, rullante e gran cassa lui ci dirà la percentuale di precisione appunto. Vedete in questo caso sono stato abbastanza preciso per fortuna, mi dava 95-96%, però appunto questo è un ottimo metodo di studio, e quindi come potete vedere sia per studiare sia per andare a suonare live questa batteria è veramente una figata perché raga molte volte mi chiedete questa cosa, cioè mi dite la mia band non vuole che io prenda la batteria elettronica perché non tanto per il suono ma magari da vedere non è il massimo della vita perché comunque una batteria ha una certa potenza diciamo anche visiva, la batteria elettronica è completamente diversa. In questo caso voi avete una batteria acustica a tutti gli effetti come visibilità ma in realtà poi è una batteria elettronica quindi se non andate a attaccargli il suono, cioè suona a zero questa batteria come potete sentire senza attaccare appunto la batteria. Quindi a me ha veramente scioccato perché comunque il modo in cui è fatta questa batteria è veramente veramente pazzesco ovviamente siamo su una fascia di batterie di alto livello già quindi è veramente ottimo ma i piatti devo dire che sono pazzeschi, infatti qua sono molto molto morbidi e al tocco sembrano veramente dei piatti veri cioè dei piatti acustici anche proprio come si muovono. Abbiamo una sensazione di suonare dei piatti acustici, poi ovviamente qualsiasi piatto se noi lo suoniamo e poi lo stoppiamo tutti i piatti se noi li suoniamo e li stoppiamo si stoppano subito, questa è una figata. Ovviamente poi non sono stato a farvi vedere troppo le cose normali delle batterie elettroniche perché siamo sempre lì cioè questa qua anche ha tutte le possibilità di modificare il trigger in realtà forse neanche un po' di più delle batterie normali perché ha possibilità di modificare tutte le sensibilità dei trigger ma vi faccio vedere questa cosa qua, mi ricuffio. se io vado qua sulla modalità trigger e poi vado su hi-hat control mi chiede il tightness cioè quanto voglio che il charleston sia aperto quando è aperto cioè se io gli dico mantienimi il charleston non troppo aperto quando apro oppure gli posso dire aprimi il charleston tantissimo quando ho deciso di aprirlo vedete che è aperto completamente diverso da prima così è molto meno aperto e più alf open diciamo quindi ci sono un sacco di queste cose qua che sono veramente una bomba pezzesca perché se noi non siamo smanettoni e quindi vogliamo avere una batteria bella da vedere che suoni bene e che suoni subito più che altro siamo a posto perché questa comunque suona tutto suona subito già i preset che sono a posto e via se noi invece siamo super smanettoni vogliamo andare a fare le cose difficile a cambiare il suono a farci la nostra batteria con i nostri suoni allora in quel caso va bene sempre questa batteria qua perché ci permette di fare quello che vogliamo sul nostro strumento altre cose da dire direi che non ne ho l'unica cosa che vi posso ancora dire sono che ha un'entrata usb un'entrata jack un'uscita per le cuffie e dietro non sto a farvi tutto lo spiegone però in pratica anziché avere tutti i jack uno a uno ha una ciabatta tipo una ciabatta con tutti i jack già attaccati quindi voi andate ad attaccare i vostri jack alla batteria e poi prendete la vostra ciabatta e la infilate all'interno di questa centralina quindi è super comodo perché non dovete avere sempre i mille cavi che si attaccano alla centralina ne avete uno e siete a posto la figata è che di questi cavi attaccati già alla ciabatta ne avete molti di più rispetto a quelli che vi servono in questo modo se voi volete andare ad attaccare altri piatti altri tom altre cose avete la possibilità di averli già all'interno della ciabatta e perché sennò sarebbe impossibile oltre questo appunto sempre come jack avete gli out quindi potete attaccarvi ad esempio ad un impianto un mixer direttamente alla centralina avete l'uscita midi così potete andare direttamente a registrare la vostra batteria in midi e poi andargli a cambiare suono fare quello che volete è veramente una bomba pazzesca raga è una bomba è una bomba pazzesca quindi ragazzi il video direi che può terminare qua sono contentissimo veramente di aver provato questa batteria perché vabbè come sapete a me le novità piace sempre provarle questa è una novità pazzesca perché è uscita veramente da poco questa batteria e più che altro cioè la vedete è una batteria acustica ma in realtà è una batteria elettronica quindi grazie mille strumentimusicali.net per avermi dato questa possibilità come vi dicevo anche prima questa f note qua non è l'unico modello perché esiste anche la f note 3 e la f note 3 in pratica è più pensata come una batteria elettronica quindi non ha i fusti in questo modo ma ha i fusti piccoli ha la cassa piccola anziché avere un tom in realtà ne ha due quindi ha tom tom timpano e ha due crash and ride anziché avere questo splashino qua quindi è proprio più una batteria elettronica la si guarda e si dice questa è una batteria elettronica questa la si guarda e si dice questa è una batteria acustica e invece no quindi comunque tranquilli vi lascerò tutto qui sotto in descrizione sia il link di questa batteria sia il link della f note 3 in descrizione trovate anche il sito che vi riporta il sito gas tube no che sito che vi riporta il sito l'articolo link che vi riporta il sito gas tube perché lì avete come al solito un pochettino di informazioni in più così almeno se volete sapere cose in più su questa batteria trovate la completazione vabbè avete capito il completamento di questo video nell'articolo detto questo sto delirando quindi io direi che vi saluto qua grazie ancora a strumentimusicali.net io vi chiedo se vi va se vi piacciono queste tipologie di video di farmelo sapere qui sotto nei commenti e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto mettete anche un mi piace che tanto male non fa e basta ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao